No, vado da Luca Teresia, perché poi spesso ci appassioniamo a dibattiti, il voto ai sedicenni, lo io sculture, domani peraltro la Camera, si riprende la discussione ovviamente in un clima di evidente, forte contrapposizione, e però poi con questo deve fare i conti anche il nuovo governo, non me lo dico perché ieri mi ha colpito, aggiungo solo questo e poi volevo sentire come la pensi, una cosa detta dal procuratore del capo di Milano, Francesco Greco, che ha detto se non mettiamo la web tax ai colossi del web, ci possiamo dimenticare il welfare? Assolutamente sì, in Francia lo hanno fatto e hanno finanziato infatti cultura e investimenti sulla formazione con i soldi che arrivano dai giganti del web, a me sembra che ci sia un altro paradigma di cui parliamo, cioè la progressività, se è vero quello che dice Speranza, se questa nave arriverà in porto, finalmente si pagherà in base al reddito, ma perché questo accada poi bisogna anche massacrare gli evasori, quindi ora si dice 7 miliardi da recuperare da interventi su IVA, l'ipotesi di punire i commercialisti che fanno dichiarazioni mendaci, gli emendamenti per colpire società forzata, è una cosa sacrosanta perché basta una parola in quel senso e coloro che curano gli interessi di tanti evasori italiani che dichiarano zero e poi magari usufruiscono anche dei benefici, delle tariffe agevolate, finiscono, perché questo è un regime che è stato tollerato.